ciao a tutti da biospot benessere nello scorso video vi avevo parlato di queste due creme ma avevo terminato questa qui oggi vi voglio far vedere le due consistenze allora aspettate mettiamole così così non vi sbagliate a sinistra questa bianca corposa e la crema si è natura la calendula a destra questa trasparente simile appunto alla neutrogena mani o gli solid è la sos della sien vi ricordo bianca naturale per uso quotidiano sos è questa traspare più sul gelatinoso trasparente se avete bisogno di riparare le mani questa fa il caso vostro l'altra no questo va bene per un uso quotidiano per mantenere le mani sempre idratate questa invece per andare a riparare questa è bio questa è con buon inci non ha assolutamente alcuna schifezza se potete vedere acqua glicerina alcol fenoxetanol acido palmitico storiacito insomma vabbè tutti quanti non fanno schifo se andate a vederlo sul biodizionario non c'è assolutamente una schifezza questa ovviamente è biologica quindi è naturale per forza ed è anche perché è certificata natru con questo è tutto sos sien 200 applicazioni addirittura quindi 99 centesimi ben spesi e anche questa dura tantissimo sono entrambi quindi da 75 ml a voi la scelta in base al bisogno e eccole ve le rifaccio vedere di nuovo con questo è tutto ciao alla prossima da bio sport benessere